Gustav Clint ama le donne del suo tempo e le ritrae con affetto perché capisce quanto siano costrette dagli stereotipi della società in cui vivono. Tutto è prezioso in questo dipinto, a partire dalla cornice d'oro che per ora chiude il dramma appena accaduto. Giuditta, eroina biblica, ha ucciso il capo dei nemici di Israele. Per Oloferne è già tutto finito e il suo volto, la testa avvolta nella seta, esprime solo pace e assenza di conflitto. Giuditta, al contrario, è carica di tensione, espressa dalle mani ingioiellate ma aggrappate febbrilmente ai capelli del suo nemico. È a seno nudo, da fan fatal, perché è così che la vuole la belle poque, ben vestita, ricca, bella, sensuale. Ma gli occhi ben truccati sono vuoti, senza pupille e ci mostrano un'anima spenta, annullata, obbligata ad essere ciò che gli altri vogliono. La donna è ingabbiata, non può fuggire dalla cornice dorata, sì, preziosa, ma sempre gabbia. Giuditta II, Gustav Klint, 1909, Galleria Internazionale d'Arte Moderna, Capesaro, Venezia. A Giuditta presta il volto e le mani Adele Blochbauer, amica del pittore. E allora forse Oloferne è l'autoritrato di Gustav Klint, l'uomo che amava le donne.